Allora, Cabrio. Lei è pronto per domani pomeriggio lì al Globo? Ballo dei bambini, grande ballo dei bambini, giovedì 16 al Globo di Borgo Vercelli. Se riesco vengo, eh. Ma che bravo. Mi vesto da bambino, così non mi conoscono. Sì, no, così lei non vuole pagare, questo che è normale. Tanto l'altezza più o meno c'è. Ma lei ha mangiato le frittelle lì? Sì, sì. Ma con le acciughe erano? Non so come erano le. Ma che puzza che c'ha. Io le ho mangiate. Ma non so, sì, ma sembrano frittelle alle acciughe. È sicuro che prima non avevano? No, no, frittelle. Vabbè, lasci stare. Veronica, venga qua, un applauso a questa meravigliosa fanciulla che sta scopolando nei teenagers di Novara. Tutti ormai dicono, eh, tutti le chiedono dove lei, cosa fa, dove studia, dove... Ha tanti fans adesso lei. Stanto. Eh, lo so, lo so. No, lo immagino, lo immagino. Ma lei a carnevale cosa fa di bene? Ma allora, ho vari impegni perché mi avrebbe invitato Alex a Milano. È un pedofilo, sì, dica. No, a fare un po' di palloncini. Dove viene lei il 26, non si ricorda. Ah, sì, no, beh, hai capito? A fare i palloncini, quelli che ha fatto l'altra volta. Sì, quelli che scoppiano tutti. Complimenti, bella schifezza. Dov'è questa? Non ditelo dove siete. No, se viene anche lei. Sì, l'ho capito, ma non ditelo. Se vuole lo diciamo. Facciamo i palloncini, no, no, no. Non lo diciamo. Facciamo i palloncini come l'ha fatto l'altra volta, per carità. E poi mi ha invitato anche Luana, sabato, che mi ha detto che c'è una festa. C'è il veglione mascherato, il grande veglione mascherato, sabato 18, al globo di Borgo Vercelli. E il grande veglione mascherato non è d'obbligo la maschera. Mettetevi un capello e va bene. Esatto, mettete qualcosa che richiama il carnevale e sarà sicuramente una grande festa. Allora, adesso noi abbiamo un altro pezzo di ospiti. Sì, sì, sì. Bene, un altro pezzo, siccome me l'hai cambiato, quello, Afrigia, ultimo di ossa. Ultimo di ossa. È l'ultimo di ossa. E lei diceva, mi fa venire vicino le... Eh, bagliamo un po', il carnevale, bagliamo un po'. È un bellissimo pezzo che sta facendo... Ma le ragazze sono bravi a fare quello. Stiamo avendo molto successo e quindi... Ecco, però se non parla col microfono non si sente. È vero, è vero. Mi ero emozionata perché vedevo il coso. La telecamera là, una volta magari guardiamo anche gli amici da casa, ma solo una volta. Poi bisognerebbe anche magari accenderlo. Aspetta, rifacciamo da casa. E quindi lei, allora, ultimo di ossa. Ah, che bello. No, di ossa. Ultimo di ossa. Ultimo di ossa. E aveva chiesto di ballare con le amiche. Che meraviglia. Bene. Così ci divertiamo tutti insieme e festeggiamo il carnevale qui con l'ultima di ossa. Il nostro successo. Giada, per voi. Grazie. 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti